Abbiamo ascoltato la voce di tutti i protagonisti, ma ne manca uno, il nostro amico di Radio Caserta Nuova, il presidente del Casanovo, Giovanni Delegave. Presidente, il tuo applauso ti conferma, uomo di sport, grandissimo il tuo gesto di rendere maggio a chi ha alzato la coppa al cielo. Sì, è normale. Prima di tutto saluto il gruppo di Radio Caserta Nuova e tutti gli amici di Caserta, perché so che anche la Casertana ha fatto un ottimo campionato. Quindi significa che il calcio in Campania sta migliorando. Mi auguro che continuino su questa stanza tutte le squadre campane, perché la Campania si deve rivalutare, perché è stata troppo abistrattata in questi ultimi periodi. Quindi noi siamo campani, io sono napoletano, dietro di Salerno, dietro di Caserta, sempre campani siamo. Quindi questo è, voglio dire. Un saluto a tutti gli amici casertani, al gruppo, un saluto particolare al dottor Enzo Pastore, che è stato qui presente stasera alla premiazione. Ho alzato la coppa, ma è giusto che sia così. Non è perché ho perso, non la devo alzare. Comunque abbiamo fatto un secondo posto. Abbiamo costruito qualcosa di importante, sia con la prima squadra, sia con la Junior Rest. Quindi faccio di nuovo complimenti a Marcianise. La presenza anche di Andrea Vecchione, il segretario. Ah, il segretario, sia il dottor Enzo Pastore, che è il presidente della Lega, e sia il dottor Andrea Vecchione che è il segretario. Quindi ci sono state persone importanti, ospiti, illustri. Niente, comunque continuiamo su questa strada. Che calcio in Campania continua su questa striscia qua, striscia positiva. Ma dico tutto il calcio, sia dalla Serie A fino alla prima categoria. Tutto il calcio in Campania, perché la Campania deve rinascere. È stata proprio distrattata in questi ultimi anni. Grazie. Grazie, presidente. Il saluto di Francesco. Allora, Francesco. Il futuro presidente del Casal Nuovo. Presidente, grazie. Il futuro presidente del Casal Nuovo, Francesco Delegava. Francesco, un 6-0. Pazienza. Nella vita si perde o si vince. Papà l'ha detto. Un applauso ai tuoi giocatori del Casal Nuovo per questo splendido campionato. Sì, è una partita molto combattuta. Il Casal Nuovo è entrato molto bene in partita. Infatti, al primo tempo il marcianista ha creato molte palle gol, però il Casal Nuovo ha creato molte di più. Al primo tempo, mi ricordo che il tiro di De Lucia si è fatto il portiere e il difensore. Un saluto a Radio Casal Nuovo. Un saluto a Radio Casal Nuovo. Ciao, grazie. Scusami, grazie. Ci vediamo. Ciao, grazie.